buongiorno amici campanari siamo sul campanile di grasselluccio dei sauri per una visita così io vengo a fare sempre visita e ci sono quattro campane inceppate con il ceppo motorizzato della brevetti già nata su questo ceppo motorizzato e quindi niente di particolare questa è la seconda campana questa è la prima ascoltiamone appena appena il suono vediamo questo battacchia questa è la prima questa è la terza e questa è la quarta questa è la seconda che la seconda se riesco più tardi faccio un plenum altrimenti meglio di niente qualcuno mi chiede sempre di vedere le iscrizioni date ma qua che vuoi vedere vedi tutto pieno di piccioni non si non vi so dire neanche se è una marinelli se è una va bene ciao ciao andiamo un po qua marinelli ma come ci sono forse questa che stai vedendo no rifusa dal parroco correra forse era don ciccio fonderia pontificia come dice qua marinelli agnone questa è una marinelli va bene ciao ciao questo quadro maestro allora dottore generale prima distesa seconda distesa terza distesa quarta distesa martello della grande seconda terza quarta campana martello quinta e sesta campana martello allora questo è il martello del primo sonnello secondo sonnello ore e quarti che si trova sulla solità del campanile qui i possibili i pulsanti delle distese qui tutti i vari ele a morsettiera questo qui era il temporizzatore che serviva per far suonare le varie suonate con quando c'era il quarts system per te ciccate queste cose grazie 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 a tutti. Non mi piace come finisce, ma la devo modificare. Riproviamo la seconda volta. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vedete? Siamo a Monteleone dove abbiamo ripristinato l'impianto e sono ritornato e oggi con mia sorpresa leggo una cosa. Quindi questa non è una Marinelli, non è una Marinelli, è della Nobilione di Napoli. Vedi? Napoli. Quindi questa campana è una Nobilione di Napoli. Questa è l'adena che io ho ingrassato per bene. Ecco, non mi sporco. Quindi tutto regolare. Ascoltiamone il suono. Sono venuto per la distanza di una settimana. C'è un'altra, c'è un'altra, c'è un'altra. E' come un'altra, c'è un'altra, c'è un'altra. Io ci tengo alle gotiche. Questo qui... E' se un'altra, c'è un'altra, c'è un'altra. E poi dovrebbe starci, sicuramente... E' un'altra, c'è un'altra. ci sta avanti sicuramente ci starà salire ma avanti stiamo dicendo di stare in palpadano questa è la prima campana vi ringrazio e alla prossima vedete che batacchione vedete questa ferma qua ok